Siamo al Parco Avventura del Lago del Caldaro e ci siamo allenati per tutta la mattina. Siamo pronti per affrontare il percorso 6, che è quello. Cominciate Puli Bus. Siamo imbracati con una sorta di trapezio, dei moschettoni, c'è anche una carrucola che si utilizza quando serve e i caschi d'alpinismo. Comincia a essere alto. Va considerato come un cavo singolo, che abbiamo già fatto, è facile. Il fatto che ci siano i rami messi in obbligo è solo un impiccio a fare il passo intorno, insomma non è niente di che. È un percorso del cavo. Un percorso del cavo. Che cavo di percorso. Un percorso del cavo. Un percorso del cavo. Grazie a tutti!